Vasto incendio nella serata di ieri nella zona industriale di Nocera Inferiore, ad andare completamente distrutti alcuni capannoni della RPN, un'azienda del gruppo De Marinis. Le fiamme si sono sviluppate alle spalle dello stabilimento, devastandolo in gran parte. Ancora non si conosce l'entità dei danni. Sono in corso le indagini da parte delle forze dell'ordine e accertamenti da parte dei vigili del fuoco che sono intervenuti sul posto per cercare di domare l'incendio. Lingue di fuoco si sono levate, alimentate anche dal materiale che è stoccato all'interno dello stabilimento, che produce granuli, polverino e pavimentazione antitrauma ottenuti dal reciclo di pneumatici esausti. Sulle cause del rogo indagano i carabinieri.